Qualcosa di spaventoso, non mi sarei aspettato una cosa e la cosa più spaventosa è il senso di silenzio, di solitudine, di morte vera che alleggia. Come l'assenza della vita, ci siamo spostati. Direi che è anche il peggio di Santo Stefano, vero? Santo Stefano ancora sembrava il paesino resistere, eccetera. Molto peggio di Santo Stefano. A Santo Stefano c'era vita spostata, ma si capiva che era spostata momentaneamente. Ma c'era vita e c'era volontà di ripresa. Qui c'è solo l'esolazione. Dobbiamo fare molto anche noi. Dobbiamo fare tutto quello che possiamo. E subito anche.